Noi saremo giunti alla fine del concerto, speriamo che non aver vienuto troppo. Ringraziamo chi ci ha invitato, chi ci ha sopportato, poche parole ringraziamo a tutti. Mi preme, sconvolgo un po' la scalezza che avevamo fatto, perché purtroppo un anno e una settimana fa un gravissimo lutto ha colpito la nostra comunità. Il nostro amico, compagno di mille avventure, purtroppo nemmeno con le sue mani grandi e forti è riuscito ad aggrapparsi a vivere, è caduto in montagna. Noi tutti i villapanchesi devono ricordarlo con suo fratello, perché la loro piccina era sempre aperta a tutti, a dare un punto di saldatura alla bicicletta di un bambino. Nei figli avventù, a saldere, a saldere, tutti e due, non mi hanno mai mandato via nessuno. La comunità della franchese ha perduto un amico, io con il suo fratello vero ho perduto un fratello. le mie dirbiti mi ricordarmi in un altro modo, volevo, arrivamo a quel giorno del funerale, cantare la canzone dei cattolini in montagna e non è stato possibile, lo volevo farlo stasera. Renato, signore delle cinque, vorrei che la dirigesse la colonna dei socios da vivere, da colui che dalla fondazione fino a raggiunti i limiti del sacro, ma fanno fuori, sia sopportati e diretti. Vorrei che che sia stato e venisse a vivere. Grazie a tutti. 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 Applausi. Applausi. Grazie a tutti. Applausi. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie a tutti. Applausi. Grazie a tutti.